Nome. Sono e mi chiamo Stefano Motta. Età. 55 anni. Formazione. Maturità classica e laurea in giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacocuole di Milano. Professione. Da oltre vent'anni avvocato del foro di Lecco con studio in Lecco. Con che partito si candida e in che collegio? Una formazione nuova, Italia sul serio, composta da azione Italia Viva Cantiere Lecco con calenda. Il collegio è il collegio uninominale per la Camera, Lecco Lombardia 2, comprendente i comuni della provincia di Lecco e 36 comuni della provincia di Bergamo. Chi è il suo punto di riferimento politico? Mino Martinazzoli. Un motivo per cui dovrebbero votarla? Perché sono un sindaco del territorio e ho una grande esperienza amministrativa. Sono sindaco da 17 anni, di cui 10 presso il comune di Brivio dove sono nato e cresciuto e gli ultimi 7 presso il comune di Calco. Conosco ogni angolo della provincia, del territorio, penso di poter fare qualcosa. Cosa farà per il territorio lecchese quando sarà eletto? Mi metterò in ascolto e a disposizione dei cittadini. Mi piacerebbe dare il mio contributo sulla sanità territoriale, sulla sicurezza urbana e sul trasporto ferroviario, merci e persone. Qual è il suo cavallo di battaglia? Ho due slogan. Un sindaco lecchese in Parlamento per il territorio, oppure uno slogan tipicamente elettorale, né questa a destra né questa a sinistra, il 25 settembre vai a votare e vota il sindaco Stefano Motta per un'Italia moderata e riformista. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!